Riguardo alla situazione di Piaggio è stata velocemente anticipata attraverso Filse la finanziaria regionale e la cassa integrazione per i lavoratori. Inoltre Regione Filse hanno sottolineato come il fondo di garanzia regionale attualmente già nelle disponibilità sia assolutamente sufficiente per coprire interamente gli anticipi in attesa dei pagamenti da parte di IMSS per i tre mesi di cassa integrazione previsti per tutti i 154 lavoratori a zero ore e per gli altri 50 che hanno due o tre mesi a zero ore. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale dello sviluppo economico Andrea Benvenuti insieme all'assessore regionale al lavoro che hanno anche sottolineato come qualora la crisi di Piaggio continuasse e IMSS non si attivasse per iniziare i pagamenti si è convenuto che nella seconda metà di giugno vi sarà un nuovo tavolo per affrontare le problematiche. La Regione evidenzia anche come ora sia più che mai necessario un progetto integrato da parte di Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa per tutte le aziende del comparto con una chiara visione di governance e sviluppo industriale su ottica pluriennale. Per quanto riguarda l'area di crisi complessa del Savonese la Regione ha confermato che accanto al primo bando di 3,5 milioni già concluso verranno immediatamente messi in lavorazione quelli relativi agli investimenti produttivi per 12,5 milioni e alle infrastrutture di ricerca per altri 3 milioni.